Il mandante, l'esecutore ed ora il complice, con l'arresto del pregiudicato Massimo Di Maria, dopo quelli di Antonio Magro come mandante e Massimo Merlo come esecutore materiale dell'omicidio da parte della polizia di Catania, si chiude il cerchio intorno al gruppo di fuoco che ha ucciso Massimo Maccarrone. I fatti risalgono al 14 novembre di due anni fa ad Adrano. Lo vedete nelle immagini. La vittima esce dalla sua abitazione e si dirige verso la propria macchina. Qui viene affiancato da Merlo e da Massimo Di Maria, alla guida dello scooter, entrambi con il volto coperto dai caschi integrali. Merlo esplode il primo colpo da distanza ravvicinata con la vittima che si accasciava al suolo. Sceso dallo scooter, il killer finiva Maccarrone con altri due colpi di pistola prima di scappare. Nonostante modalità mafiose, le indagini hanno fatto emergere che tutto era collegato a motivi passionali. Magro elemento di spicco del clammo rabbito di Paternò, Merlo e Di Maria invece del gruppo Scalisi di Adrano, che ruotavano intorno all'area criminale dei Laudani. Maccarrone ha quindi pagato con la vita la colpa di avere una presunta relazione con la ex di Magro. All'epoca dei fatti, le indagini degli inquirenti subirono importante svolta grazie ad un'intercettazione in cui Merlo, al telefono, si vantava del modus operanti con cui aveva ucciso Maccarrone, senza sapere che il colloquio veniva intercettato dalla polizia. A conferma di ciò, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Di Marco, esponente storico del sodalizio degli Scalisi.